Ecco, c'è l'entrata in campo delle due compagini, semifinale del torneo Il Monello-Città di Atessa, gara Virtus Casseffrentano con la classica maglia giallorossa, calzettoni bicolori e il piazzano con la divisa verde-azzurra. Ok, se volete fare il grido di battaglia o qualcosa lo potete fare, sennò si comincia, va bene? Ok, c'è l'inizio della gara, semifinale categoria allievi. Ok. 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 Ok.